Ciao, mi chiamo Martina, anzi Smartina, perché amo gli oggetti tecnologici, ma soprattutto di Antonio Diggi Smart. Questo è il nostro teatro, anzi Smart Teatro, fatto con i SEM Labs. Ora vi faccio vedere una piccola trottola che gira. Abbiamo attrezzato il palcoscenico con le luci psicoderiche. Grazie a tutti. Grazie a tutti.